Buongiorno a tutti, abbiamo qualche minuto di ritardo ma recupereremo velocemente. Saluto tutti gli ospiti, i vescovi presenti, tra cui vorrei salutare Sua Eccellenza Monsignor Buarduni che è venuto da Bagdad ieri e che sarà con noi in questi prossimi giorni. Con una grande sorpresa, a parte la bellezza straordinaria di questi pezzi, le icone, i crocifissi, le pergamene, ma proprio l'idea di imbattersi in una grandissima cultura, in una grandissima civiltà forse troppo poco conosciuta da noi nel nostro mondo. Questo nostro incontro svilupperà un piccolo percorso attraverso questa mostra e arriverà a parlare di un'iniziativa molto importante, di un progetto che è in corso da qualche anno in Etiopia perché quel passato rifluisce nel presente. Il presente dell'Etiopia, del quale ci interessa parlare anche oggi, è anche il progetto dell'Università Cattolica dell'Etiopia che è in corso da alcuni anni e del quale parleremo, cosa che sta molto a cuore a Monsignor Tomasi, che ringrazia ancora una volta per i suoi giorni qui con noi. Ma ora iniziamo subito a parlare di questa mostra. Il percorso della mostra ci viene illustrato dal professor Giuseppe Barbieri che è docente di storia dell'arte moderna a Ca' Foscari di Venezia. E come mi diceva prima, qualche minuto fa, è già la quarta volta che interviene su questo tema dell'arte e della tradizione etiopica perché la prima grande mostra su questo tema di cui alcuni pezzi abbiamo qui fu proprio a Venezia alcuni anni fa. Prego, professor Barbieri. Sì, mi occupo da cinque anni di arte etiopica e non ho ancora imparato molto. Quindi, vediamo se parte la prima immagine. Questa è la quarta mostra di arte etiopica che io curo negli ultimi cinque anni. Sono state mostre molto diverse anche una dall'altra e volevo ripassare con voi brevemente il pregresso proprio perché possiamo capire meglio qual è il taglio di questa mostra realizzata per la 35esima edizione del meeting di Rimini. E visto anche il tema generale del meeting di quest'anno, che cosa può determinare anche per il nostro mondo, per il nostro primo mondo, un'attenzione per una realtà, una civiltà così apparentemente remota. Questa che vedete è la sede della mia università, l'Università Ca' Foscari, un palazzo gotico della metà del Quattrocento. Vedete l'edificio vicino, quello che è in qualche modo perimetrato dall'immagine della copertina del catalogo della mostra del 2009. E' Ca' Giustinian dei Vescovi, è praticamente indistinguibile da Ca' Foscari, nel senso che piano per piano si passa da un edificio all'altro. Ma lì ci sono gli spazi espositivi della nostra università. Siamo l'unica università in Italia che ha degli spazi specificamente dedicati ad attività espositive, che sono un'occasione di formazione importante per i nostri studenti, prima di tutto. Ed è in una posizione anche tutto sommato interessante, perché siamo di fronte a Palazzo Grassi, sul Canal Grande, e quindi abbiamo anche diverse richieste di collaborazione. Nigra Sum, sed formosa, sacro e bellezza dell'Etiopia cristiana, una mostra della primavera del 2009, ha cambiato radicalmente le nostre attività espositive all'interno di Ca' Foscari. Quindi io sono in permanenza grato a Monsignor Tommasi, a Paolo Borin, che sostiene quella mostra, perché riuscimo a passare da delle mostre di carattere abbastanza tradizionale a delle mostre che impiegavano in maniera molto più marcata le nuove tecnologie. Qui vedete il capolavoro che valeva da solo la visita della mostra del 2009, il mappamondo di Framauro, uno dei più grandi e straordinari mappamondi che siano mai stati prodotti nel XV secolo, stava a 200 metri da Ca' Foscari, nella biblioteca marciana di Venezia, però non era mai uscito dalla biblioteca e quasi nessuno l'aveva mai visto. E vedete tuttavia che quel catafalco che ci è costato due giorni di trasporto, 200 metri e due giorni di lavoro per portarlo nella sede della mostra, aveva sia a destra che a sinistra una serie di proiezioni che visualizzavano bene il contesto dell'Etiopia. E questa fu la cifra un po' di tutta quella esposizione. E questo è il punto che credo sia più interessante del mio breve intervento. Noi avevamo il problema di avvicinare un pubblico che non aveva quasi mai sentito parlare di Etiopio, o se ne aveva sentito parlare aveva delle vaghissime idee al riguardo, ad una tradizione culturale quasi millenaria. Come fare? Certo, attraverso una serie di opere importanti che furono esposte, la maggior parte inedite venivano mostrate per la prima volta, in quella circostanza. Ma poi c'era bisogno di avvicinare, di costruire un contesto, costruire virtualmente un contesto. E questo l'abbiamo potuto fare con quelle che vengono chiamate Information and Communication Technologies, ICT, il multimediale, ma non un multimediale che venisse usato nella saletta video, sapete, andate in tante mostre, alla fine, da una parte c'è la toaletta e dall'altra c'è la saletta video, per indicare anche l'importanza che viene attribuita da una storia dell'arte un pochino più tradizionale nei confronti delle nuove tecnologie. Mentre invece, nella mostra di Ca' Foscari, il multimediale cominciava all'inizio della mostra e scandiva tutta la mostra. E c'erano delle cose divertenti. Vedete in una di quelle immagini il professor Stanislaw Kowinaski, il decano, allora aveva 92 anni, sarebbe morto due anni dopo, e era arzillissimo, lo avevamo intervistato e ripreso e proiettato sulle pareti della mostra. Proiettato a life size, anche perché questo dà un senso di autorevolezza estremamente diverso che il mezzo busto. Il mezzo busto è televisione, quando uno vede una persona che parla così, dopo dieci secondi ha staccato la connessione. Mentre invece, vedere la persona intera che ti parla, il professor Kowinaski il giorno dell'inaugurazione, era presente in carne e ossa ed era vestito uguale, con un effetto di ridondanza piuttosto interessante. Però vedete altre situazioni, pareti animate, una guida multimediale che fu realizzata, assolutamente innovativa, che fu realizzata per la circostanza, e lì vedete alcuni dei nostri studenti, che invece che fare le guide all'interno della mostra, facevano i mediatori culturali, e cioè rispondevano solo alle domande del pubblico. E quindi spiegavano al pubblico che l'opera d'arte può essere interrogata, è una persona educata, l'opera d'arte se viene interrogata risponde. Da allora, questi furono i primi, ci sono stati oltre 600 nostri studenti e di altri atenei, perché oramai vengono da tutta Italia, che vivono questa esperienza di tirocinio facendo il mediatore culturale, alla Biennale, a Palazzo Grassi, a Punta della Dogana, alla Fondazione Prada, alla Fondazione Corini di Stampaglia, all'interno dei nostri spazi espositivi. Quindi, una mostra su un soggetto periferico, una mostra che poteva interessare poche persone, scoprimmo che costruita attraverso queste nuove tecnologie interessò tantissime persone. Fu la mostra realizzata a Ca' Foscari più frequentata di tutti gli anni. Una mattina trovavamo 350 etiopi in costumi tradizionali che riempivano il cortile di Kajustinian ed erano uno spettacolo anche cromatico molto interessante. Un sito web. La seconda mostra fu realizzata due anni dopo, a Pordenone, nella sede di Banca Friuladria, del gruppo Cariparma Credito Agricol, per recitare tutto quanto, proprio la ragione sociale, che ha sempre sostenuto un bellissimo rapporto, non di sponsorizzazione, ma di partnership con Ca' Foscari, che si è anche abbastanza specializzato nella costruzione di mostre etiopi. Questa era una mostra più piccola, lo spazio era molto inferiore a quello che avevamo a disposizione a Ca' Foscari, e si mostravano, per fortuna, delle icone molto piccole, quindi spazio piccolo, icone piccole. Però, in realtà, anche in quel caso, ci ponemmo il problema di come coinvolgere il pubblico nella visione di icone alte 8 cm. E la scelta fu quella di giocare sulla scala dell'immagine. Quindi un'icona piccola, vicino a una gigantografia di 2 metri per 2 metri, consentiva allo spettatore di mettere costantemente a fuoco le cose che vedeva. Voi vedrete in questa mostra di Rimini sia icone piccole che icone grandi. Giocare sulla scala è sempre molto utile, perché se uno spettatore si trova di fronte agli stessi medi formati, dopo un po' stacca la spina. Mentre invece, se è costretto a passare dal piccolo al grande, riesce a fare le cose con più attenzione. Terza mostra due anni fa, in questo caso al Museo Diocesano di Vicenza, uno dei più bei musei diocesani in Italia, tra l'altro anche con delle ricche collezioni etnografiche, perché Monsignor Pietro Nonis, che è stato per 15 anni vescovo di Vicenza, era affetto da morbo del collezionismo. Ha lasciato tutte le sue collezioni al Museo Diocesano, e ci sono anche parecchi materiali della civiltà etiopica, una trentina di questi pezzi, li potete vedere anche nella mostra di quest'anno. La mostra di Vicenza, in una struttura abbastanza vincolata, devo dire, perché gli spazi espositivi erano piuttosto disegnati, però anche lì ritornammo ad usare il multimediale, quindi a mostrare immagini, filmati, interviste, musiche. Pensate che la mostra di Venezia, nella guida che veniva data gratuitamente al visitatore, a parte che ogni sala aveva una sua colonna sonora, quindi erano nove sale, c'erano nove colonne sonore dedicate, ma se uno non piaceva quella musica, aveva 600 file audio, tra cui poter scegliere. credo che sia importante, e anche in questa mostra c'è una parte audio, far sentire la religiosità della musica etiopica, che è un ingrediente fondamentale della liturgia, che è un ingrediente fondamentale di una civiltà così legata all'oralità. e anche in questo caso furono mostrate delle icone, dei rotoli magici, delle croci. L'Etiopia è il primo paese dell'era cristiana ad aver lavorato sul tema della croce. Le prime monete etiopi con il segno della croce sono di un secolo precedenti al primo esempio di monetazione dell'impero romano con il segno della croce. Quindi l'edito di Costantino è del 313, ma le prime monete con la croce romane sono del secolo successivo. Già nel 330-340 ci sono monete etiopi con il segno della croce. Con un segno della croce. Abbastanza rudimentale. Ma da allora la fantasia degli artisti etiopi ha distillato una quarantina di forme diverse, di croci. Ne vedete un bel assortimento all'interno della mostra L'Etiopia innalzerà a Dio le sue mani è un verso del Salmo 68. Ma quando entrate nella mostra vi raccomanderei di guardare anche il primo contenuto multimediale che trovate sulla prima parete sulla destra perché vedrete accanto ad una serie di bellissime immagini che riguarda la vita la vita religiosa e non solo religiosa dell'Etiopia vedrete anche una serie di citazioni letterarie da Omero alla Bibbia a scrittori del Cinquecento che hanno sempre avuto una grande attenzione. Ecco l'Etiopia non è stata sempre periferia del mondo anzi è stata per secoli considerato uno dei più importanti stati del mondo era l'impero del Prete Gianni così chiamato questo Prete Gianni forse non è neanche mai esistito però così veniva segnata sui materiali cartografici così veniva conosciuta così veniva ricercata e i rapporti dell'Etiopia con il nostro paese non datano soltanto alla tragedia della guerra del 36 gli imperatori etiopi hanno mandato delle ambascerie in Italia ancora nel Quattrocento per chiedere tecnici ingegneri per legarci anche al tema dell'università di Addis Abeba e artisti e artisti e uno degli stati che ha preso più seriamente questo invito è stata proprio la Repubblica di Venezia che ha mandato dei pittori che ha mandato dei carpentieri che hanno determinato anche un'evoluzione dell'arte etiope ecco il mio consiglio è quello di andare a vedere questa mostra naturalmente di guardare la vivacità cromatica dei soggetti i soggetti sono pochissimi nella pittura delle icone etiopi però sono fondamentali c'è una riflessione straordinaria su quelli che chiamiamo i novissimi cioè l'esperienza di fine vita il transito la resurrezione la discesa al limbo l'intercessione dei santi in particolare di uno San Giorgio che trovate quasi in ogni icona va bene anche se i soggetti sono pochissimi la Madonna San Giorgio la crocifissione la resurrezione la discesa soprattutto la discesa al limbo però guardate la varietà di declinazioni che quei pochi temi assumono quindi è un'arte straordinariamente affascinante io non sono stupito del fatto che anche questo meeting stia dimostrando un notevole interesse per questa mostra perché dalla prima mostra che facciamo a Venezia nel 2009 il passaparola è sempre stato una carta assolutamente vincente se uno dice vai a vederla perché è interessante uno va la trova interessante diffonde a sua volta la l'informazione e così si è costruita oramai una catena consolidata di appassionati di arte religiosa etiopica grazie bene grazie professore perché ci ha effettivamente introdotto con queste pennellate a questo grande patrimonio artistico e culturale ora do la parola a Monsignor Tommasi che essendo una bitway del meeting diciamo non ha bisogno di tantissime presentazioni ma attualmente annunzi a Ginevra da molti anni presso le organizzazioni internazionali osservatore permanente diciamo tecnicamente della Santa Sede presso le organizzazioni internazionali a Ginevra ma dietro di sé ha una lunga vita peregrinante per il mondo e dovunque è stato nei paesi del mondo ha lasciato dei semi che poi sono diventati radici in qualche caso fiori in qualche caso alberi in qualche caso grandi alberi Baobab è forse uno dei luoghi dove più ha seminato posso dire interpreto io glielo dico sempre forse ha lasciato anche un po' del suo cuore proprio l'Etiopia di Sabeba dove è stato a lungo Nunzio e a lui si deve questa mostra di oggi obiettivamente e si deve anche tutto questo lavoro questa connessione tra il nostro mondo i nostri mondi e l'Etiopia allora prego eccellenza grazie io non ho titoli per spiegare l'aspetto artistico e la bellezza storica e artistica di questi oggetti che sono esposti nella mostra eccetto che mi sono familiarizzato con questi e trovo che hanno un messaggio da dare che è molto importante il titolo del meeting il tema del meeting di quest'anno è verso le periferie del mondo e dell'esistenza il destino non ha lasciato l'uomo solo l'uomo vero che l'impero di Axum che prendeva l'Etiopia di oggi un po' del Sudan e parte dello Yemen il sud dell'Arabia della penisola dell'Arabia è uno dei grandi imperi della storia c'era l'impero romano l'impero persiano e c'era l'impero di Axum quindi non è esattamente come diceva il professor Barbieri alla periferia sempre alla periferia del mondo conosciuto però in un certo senso l'Etiopia è caduta nella periferia del mondo cristiano perché nel cammino dei secoli è rimasto l'altopiano etiopico è rimasto isolato circondato da un mondo completamente diverso il mondo musulmano con cui purtroppo spesso doveva ingaggiarsi in battaglie di varie intensità per mantenere la sua identità cristiana l'Etiopia quindi si è sviluppata in continuità storica con il grande impero di Axum e poi è evoluta costantemente lungo i secoli già al tempo dell'imperatore Costanzo figlio di Costantino c'era un senso che l'Etiopia era un po' fuori dal controllo perché quando Sant'Atanasio vescovo di Alessandria ordinò vescovo San Frumenzio il primo vescovo di cui abbiamo documentazione storica dell'Etiopia l'imperatore Costanzo scrisse al patriarca di Alessandria Atanasio dicendo come ti sei permesso di ordinare un vescovo fuori dai confini del mio impero cioè al di là dei confini dell'impero romano di allora l'Etiopia era alla periferia ed è rimasta un po' la periferia durante i secoli bui di distacco dal mondo occidentale da una parte e dal mondo dell'impero bizantino dall'altra quando si è l'altopiano come dicevo si è trovato completamente isolato e circondato dal potenze di ispirazione islamica comunque la vita la storia lo stile di vita dell'Etiopia rimase sempre ispirato dalla cultura cristiana dall'identità cristiana e quello che sopravvive anche degli anni scuri quando non abbiamo moltissime notizie della storia etiopica è quello che sopravvive sono dei manoscritti delle icone delle croci dei monasteri che testimoniano come la vita della gente era organizzata attorno alle feste cristiane e a questa identità cristiana che dovevano difendere anche combattendo però questa identità cristiana aveva un carattere alle volte statico in un certo senso le icone ci danno l'impressione di qualcosa di statico di ripetitivo e un po' di questo c'è stato nella nella vita della chiesa etiopica che ha un po' mantenuto la società in una situazione di paralisi e non ha facilitato molto l'evoluzione ha mantenuto l'identità nazionale ma non ha allo stesso modo spinto in avanti il progresso sociale e tecnologico della società ma l'importanza è che l'ispirazione cristiana prima o dopo sveglia qualcosa e negli anni recenti c'è stato un movimento di riaffermazione di risveglio della della vita anche sociale non solo della vita cristiana ma della vita della vita sociale del del paese e come l'arte che vediamo nella mostra è basata sull'identità cristiana dell'Etiopia così questa identità continua a produrre dei frutti la storia cammina la storia non rimane fossilizzata e quindi anche l'identità di un popolo evolve adesso l'Etiopia ha una sua costituzione democratica non c'è più l'imperatore l'ultimo è stato assassinato da un dittatore come Ailemarian Mengistu però non è morta nella separazione tra chiesa e stato che la nuova costituzione impone non è morta anzi si è ravvivata la vita della chiesa ortodossa etiopica e in Etiopia oggi il cristianesimo è presente in varie forme la chiesa ortodossa che è quella storica è la maggioranza ancora del paese poi ci sono delle comunità protestanti luterane per lo più o indipendenti di carattere pentecostale e c'è una piccola chiesa cattolica che però è molto vivace e sparsa su tutto il territorio gestisce più di 350 scuole di cui i cui studenti sono il 90% ortodossi e musulmani quindi il contributo che viene dato è di creare una società dove la convivenza nella differenza è possibile una convivenza pacifica senza cadere negli estremismi di cui purtroppo vediamo in tanti posti come il Medio Oriente di questi giorni vediamo che è dominato dalla violenza e dal conflitto ed è la continuità di questa ispirazione cristiana che ha portato al progetto dell'università di creare l'università cattolica dell'Etiopia perché l'educazione è la strada maestra per lo sviluppo di un paese se vogliamo che questi giovani che cercano lavoro che vogliono mettere in piedi una famiglia che vogliono una certa stabilità economica per se stessi non vengano a bussare necessariamente alla porta dell'Europa dobbiamo fare in modo che abbiano la capacità di correre con le loro gambe cioè di creare posti lavoro nel loro paese di aiutare lo sviluppo del loro paese in modo che non siano forzati a cercare altre soluzioni e l'educazione diventa la via per ottenere questo risultato l'università cattolica è anche l'istituto di educazione superiore che chiude la catena direi di sviluppo dell'educazione che offre la comunità cattolica in Etiopia scuole elementari high school che sono le migliori del paese e quindi adesso l'università e serve non solo per l'Etiopia ma anche come esempio e come possibilità di modello di qualità per l'Africa io vedo questa istituzione come una mossa strategica perché Addis Abeba come voi sapete è anche la sede dell'Unione Africana è una specie di Bruxelles dell'Africa l'Unione Africana cerca di portare una unione una unificazione del continente africano per darle più voce nel contesto internazionale e la sede di questa Unione Africana è appunto ad Addis Abeba dove si sta dove sta crescendo questa istituzione che è l'Università Cattolica bene io concluderei qui perché abbiamo altri che parleranno più in dettaglio sulla natura di questa Università e come storicamente si è sviluppata ma quello che volevo sottolineare a conclusione è appunto che quella che è stata l'ispirazione della storia dell'Etiopia una storia millenaria e partendo dai tempi apostolici perché se voi ricordate dagli atti degli apostoli c'è la pagina molto bella che il ministro della regina Candace lascia Gerusalemme per ritornare in Etiopia e per strada viene raggiunto dal diacono Filippo il quale gli si avvicina e gli dice ma cosa stai leggendo stava leggendo il profeta Isaia questo ministro e non sapeva se si riferiva quello che era scritto a Gesù a qualcuno o a se stesso al profeta e Filippo gli spiega che appunto quello che stava leggendo era un'anticipazione in qualche modo degli avvenimenti che riguardavano la vita di Gesù e da lì lo battezzò e ritornò in Etiopia dove si presume che cominciò un inizio di comuni piccola comunità cristiana che portò poi alla conversione del re Esana e della sua corte e come diceva il professor Barbieri anche al conio della prima moneta mi sembra nella storia che abbia la croce quindi c'è stata questa lunga ispirazione cristiana che oggi prende una nuova forma è di partecipare nella società in maniera da educare difendere i diritti delle persone dare possibilità di crescita umana e spirituale e in quella maniera veramente costruire un futuro che abbia senso per questa popolazione di 100 milioni di abitanti e che mantengano la possibilità di vivere assieme in pace grazie grazie eccellenza per il quadro che ci ha offerto ora cercando di accelerare un pochino voglio dare la parola a padre Tecle Mekkonen che parla un perfetto italiano ha studiato in Italia e poi negli Stati Uniti e ha lavorato moltissimo nell'educazione ed è proprio il presidente di questa università cattolica dell'Etiopia a San Tommaso d'Aquino ed è a lui che do la parola per illustrarci un po' le finalità e gli scopi di questo progetto grazie prima di tutto vorrei ringraziare gli organizzatori di questo meeting per avermi dato l'opportunità di presentare il progresso del progetto concernente la costruzione dell'università cattolica di Etiopia io non accennerò la storia di Etiopia ma vado direttamente al ruolo della Chiesa nello sviluppo del paese che cos'è il ruolo della Chiesa cattolica nell'aiuto nel aiutare a servirsi il prossimo pur essendo un'esigua minoranza nel paese la Chiesa cattolica è da qualche tempo nel primo piano a fornire l'assistenta sanitaria e l'istruzione a livello nazionale e locale come il signor Silvano ha accennato la Chiesa cattolica gestisce ora più di 350 scuole e nel settore del salute la Chiesa cattolica opera 76 centri speciali dati e cliniche e quattro ospedali a livello nazionale questi servizi sanitari raggiungono circa il 10% della popolazione le scuole cattoliche sono riconoscite dalla gente e dal governo etiopico come dei modelli di eccellenza scolastica per tutto il paese sia per la qualità educativa sia per le sue politiche inclusive essendo aperte a tutti gli studenti senza distinzione di fede religiosa etnica estrazione sociale e sesso giusto mancava un'università che potesse essere un medello per le altre università locali e dare un'opportunità di studio ad alto livello a quelli studenti che superano brillantemente i loro studi nelle scuole cattoliche che sono distinti e la loro superiorità accademica per citare qualche esempio più del 90% degli studenti che lasciano le scuole cattoliche superano i requisiti dell'università nel paese che è una media altissima inoltre questi studenti riescono ad essere accettati nelle specializzazioni scelte da loro in pratica le facoltà desiderate come ingegneria e medicina la seconda questione viene come è nata l'università l'idea di stabilire un'università cattolica in Etiopia nasce dall'esplicita richiesta dell'allora primo ministro di Etiopia Melle Zenawi a sua santità Giovanni Paolo II Santo Giovanni II durante sua visita nel Vaticano nel 1997 lo scopo era di realizzare un'università standard internazionale che può essere un esempio per tutto il paese perché il primo ministro ha voluto un'università cattolica per il suo paese la ragione principale dietro la richiesta del primo ministro di Etiopia è la fiorente esperienza positiva della chiesa cattolica nel promuovere l'istruzione di alta qualità in Etiopia come descritta sopra le scuole cattoliche sono distinte per il loro alto contributo qualitativo nel paese l'illustre primo ministro etiopo voleva che si estendessero l'eccellenza accadamico e ottima formazione dei giovani a livello universitario dietro la risposta positiva del santo padre alla richiesta del primo ministro un primo atto formale di riconoscimento fu instaurata firmando il 30 novembre 2005 un accordo tra il governo etiopico e la conferenza episcopale della chiesa cattolica di Etiopia questo accordo era accompagnato con concreti contributi da parte del governo dimostrando così dell'alto impegno del paese verso la nascente università cattolica in concreto i contributi del governo erano primo dono di 60 ettari di terreno per la futura università cattolica nella città di Addis Abeba la capitale di Etiopia secondo essenzione da qualsiasi imposto di importazione di beni e servizi diretti all'università terzo concessione di permesso di lavoro per tutte le persone assunte per lavorare nell'università dopo la prima firma dell'accordo dell'america di Etiopia l'allora annuncio apostolico archivescovo Silvano Tomassi e altri amici della futura università si adoperano per trovare fondi iniziali per la costruzione dell'ateneo appellando a diversi enti internazionali la prima istituzione che ha dato risposta positiva per questo appello fu la conferenza episcopale italiana CEI infatti con il contributo della CEI le attività sia nel campo di costruzione che nel didattico fu iniziato nel 2008 fino ad esso i fondi dell'ACEI hanno permesso di cominciare la costruzione della prima parte dell'università e lo sveglimento didattico dei tre dipartimenti cioè il laboratorio medico l'assistente sociale e l'informatica queste realizzazioni ci hanno dato soddisfazione e grande speranza e vorrei ringraziare al popolo italiano e all'ACEI per la loro generosità e solidarietà l'università oggi in continuazione della sua opera di servire il paese nel campo di istruzione la chiesa sta facendo un salto di qualità proponendo di offrire studi universitari tramite un'università cattolica questa università intende provvedere servizi di qualità a tutta la gente senza distinzione di religione etnia estrazione sociale o sesso si distinguerà per la sua inclusività e qualità istruzione in questo modo si propone di essere un'atee modello per i numeri nuovi istituzioni accadamiche che sono lontane da essere centri di eccellenza accadamiche qual è la situazione attuale a riguardo dell'infrastruttura equipaggio il piano di sviluppo dell'università è predisposto in tre fasi il progetto della prima fase approvato nel 2013 consiste nel costruire il nuovo campus nella terra donata dal governo e copre 13.500 metri quadri questa prima fase di costruzione comprende due facoltà cioè la facoltà di medicina ed ingegneria con dormitori e mense e tutti i servizi di copreggimento necessari per svolgere le attività didattiche e ricerche applicate ancora una volta grazie all'aiuto dell'ACCI i lavori della prima fase sono in avanzato stato di costruzione e si prevede che nel settembre 2015 l'università aprirà formalmente i corsi di laurea di queste due facoltà iniziando così la nuova vita dell'Ateneo che mira ad essere un centro di eccellenza accademico la scelta di cominciare con due facoltà così impegnativi è in pratico obbligatoria perché queste sono le linee guida del programma nazionale elaborato dal governo quindi si crede che attaccando questi problemi in maniera decisiva faciliterà lo sviluppo del paese conclusione conclusione che l'università svolgerà un ruolo importante nel consolidamento della pace nel continente cooperando con tanti organizzazioni internazionali e regionali che hanno sede in Addis Abeba i dirigenti della nascente università sono molto incoraggiati dalla personalità imminente che vedono l'Ateneo in questa luce ultimamente l'università ha ottenuto un forte sostegno morale dalla sua santità Francesco avendo sollecitato la realizzazione dell'Ateneo infatti il Santo Padre si è degnato a voler sapere il progresso del progetto quando ha ricevuto l'Assemblea dei Vescovi di Etiopia a maggio del 2014 dopo aver ascoltato i progressi dei lavori si è appellato a tutti i potenziali benefattori di sostenere generosamente la realizzazione dell'Università Cattolica di Etiopia naturalmente noi siamo molto grati al Santo Padre e siamo fiduciosi che con la sua benedizione raggiungeremo presto lo scopo che ci siamo prefissi prima di concludere vorrei esprimere le mie gratitudine a tutti coloro che ci stanno sostenendo a costruire l'Università Cattolica in Etiopia in particolare vorrei ringraziare la Conferenza Episcopale Italiana Sua Eccellenza Archivescovo Silvano Tomasi Amici Amici di Acusta in Italia Comunione e Liberazione e l'Università di Padova Grazie Avete sentito quanto impegno quanto tempo richiede lo sviluppo di un progetto così complesso e così importante e così decisivo e avete sentito anche che c'è stato un ruolo importante c'è un ruolo importante della Conferenza Episcopale Italiana in questo progetto e qui vorrei presentarvi ora Giuseppe Magri il dottor Giuseppe Magri che fa parte del comitato per gli interventi caritativi a favore del terzo mondo della Conferenza Episcopale Italiana e possiamo dire che anche lui è una persona che ha lasciato forse un po' di cuore in Etiopia perché a sua volta c'è stato molti anni come volontario per alcune organizzazioni non governative e poi si dà molto da fare ancora adesso per questa nostra paese così amico e così vicino prego sì io vorrei innanzitutto ringraziare per dare questa opportunità anche di presentare il lavoro che viene fatto attraverso il comitato per gli interventi caritativi a favore dei paesi del terzo mondo della Conferenza Episcopale da parte appunto della Chiesa Italiana a sostegno di varie iniziative di carattere sociale che sono promosse a livello locale dalle Chiese in particolare dalle Chiese appunto nei paesi del cosiddetto terzo mondo ormai il termine è superato viene utilizzato non perché siamo anacronistici ma semplicemente per rispetto del dettato legislativo che è quello che riguarda la legge 222 dell'85 che ha istituito ha rinnovato i patti lateranensi sulla base dei quali vengono raccolti i fondi dell'otto per mille che in parte vengono destinati anche appunto ai progetti di solidarietà internazionale promossi dalla Chiesa Italiana ecco io mi ero preparato il mio intervento ma vedo che le necessità dei tempi stringono e voglio portare rispetto a questo vorrei anche esprimere il saluto del presidente del comitato che è Monsignor Alfonso Badini Confalonieri e del direttore del servizio appunto preposto a questo comitato che è composto da 10 esperti oltre al rappresentante della Caritas e di Missio della fondazione Missio dell'ufficio nazionale per la cooperazione tra le Chiese sempre organi della conferenza episcopale italiana ecco che Don Leonardo di Mauro ecco detto questo appunto per essere breve cerco di riassumere i vari punti ma me ne bastano due punti essenzialmente uno riguarda da dove arrivano questi soldi perché ci sono somme ingenti che sono necessarie per sostenere progetti di una certa entità come nel caso di Ecusta l'Università Cattolica dell'Etiopia questi fondi derivano dalla contribuzione volontaria del contribuente italiano quindi presumo che almeno gran parte di voi abbia un reddito e che quindi sia tenuto ad esprimere o se lo vuol fare ha facoltà di esprimere la propria volontà di dedicare l'otto per mille della propria quota di tasse che paga ogni anno di devolverla alla Chiesa italiana perché vengano utilizzati anche a scopi di solidarietà internazionale quindi non specificatamente per funzioni di carattere per utilizzi di carattere religioso ma in particolare per scopi di carattere sociale tra questi naturalmente prevale l'aspetto dell'educazione poi c'è l'aspetto sanitario c'è l'aspetto dello sviluppo agricolo e di altre attività ecco questo particolare questo particolare orientamento di utilizzo dei fondi non sempre è ben inteso dalle quelle che vengono chiamate le controparti locali che molto spesso sono le Chiese locali anzi formalmente sono le conferenze episcopali locali i partner prioritari che poi naturalmente sostengono i progetti che sono seguiti direttamente o da organismi missionari oppure proprio da strutture ecclesiali locali non vengono ben intesi questi orientamenti perché spesso trattandosi di denaro che proviene dalla Chiesa italiana si immagina che sia utilizzabile per scopi religiosi naturalmente quindi faccio un banale riferimento che ne so a costruzione di Chiese a finanziamento di attività di Catechesi ecco esplicitamente questo non è compito del nostro Comitato perché ripeto ha funzione di sostegno di attività di carattere sociale e quindi non può essere il denaro raccolto e assegnato a questi progetti non può essere utilizzato a scopo di attività religiosa mi viene da dire è anche ovvio insomma trattandosi di denaro pubblico quindi di uno Stato laico che destina quote di denaro raccolto dalla tassazione pubblica non può fare attività religiosa all'estero ecco non può promuovere attività religiosa all'estero questo mi verrebbe da dare come ragionamento sulla base del quale poi appunto vengono destinati questi fondi l'altro l'altro aspetto che riguarda più direttamente l'Università Cattolica invece dell'Etiopia anch'io vorrei mi associo al ringraziamento fatto da padre Tecle a Monsignor Tomasi per quanto riguarda la sua lungimiranza rispetto a questa idea che è nata qualche decennio fa probabilmente non così recente come può essere la concretizzazione dell'attività di costruzione dell'università e di messa in funzione e credo che l'impegno che la Chiesa italiana può garantire nel sostegno di questa iniziativa sia legato soprattutto al mantenimento anche di un livello di competenza che già è garantito per le persone che stanno per tutto lo staff che sta seguendo il progetto e all'insieme anche della trasparenza di quelli che sono gli impegni finanziari che vengono che sono obbligatoriamente associati quindi col dovere anche dovere morale ma anche civile di dare conto di quello che viene speso ecco avendo garanzia di questo io credo che la Chiesa italiana non abbia certamente alcuna remora nel garantire il proprio sostegno non solamente a questa grande meritoria iniziativa che è l'Università Cattolica di Addis Abeba per l'Etiopia e probabilmente anche utilizzabile sicuramente per tutto per la parte dell'Africa orientale quanto meno ma possa anche garantire in ogni caso il sostegno ad altri progetti in Etiopia come altrove di sviluppo anche di minore entità di investimento economico ma di impatto sociale sicuramente sempre molto importante e che è garantito da organizzazioni che sono di fiducia della Chiesa locale perché hanno sempre e comunque l'appoggio devono avere sempre e comunque l'appoggio da parte delle conferenze episcopali locali ripeto grazie 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 per avere anche chiarito il ruolo della conferenza episcopale italiana la possibilità appunto che ha di sostenere progetti di questo tipo ed ora vorrei infine presentarvi un ambasciatore dirà poi meglio in cosa consiste questa sua attività diplomatica è il dottor Alberto Bertoldi che è ambasciatore dell'ordine di Malta accreditato presso Addis Abeba e l'organizzazione dell'unità dell'unione africana ad Addis Abeba e l'ordine di Malta dell'ordine di Malta vi parlerà lui l'ho detto anche se addirittura in modo poco formale perché in realtà l'addizione dell'ordine è più complessa più piena di riguardo è più giusta più corretta ma do subito volentieri la parola a lui per illustrarci qual è la natura di questo ordine che rapporto ha con questi progetti e con l'Etiopia grazie porto anche i saluti del nostro gran cancelliere che è sua eccellenza Albrecht Freier von Boeslager che mi invita a presentare brevemente forse mi auguro di essere breve l'attività i tratti generali dell'attività diplomatica e umanitaria dell'ordine di Malta nel mondo che cos'è l'ordine di Malta l'ordine di Malta è il più antico ordine religioso laicale della chiesa cattolica ed è stato fondato intorno al 1050 a Gerusalemme e viene riconosciuto questo è un aspetto abbastanza interessante viene riconosciuto come ente primario di diritto internazionale avendo avuto giurisdizione in questa lunga storia giurisdizione territoriale prima a Cipro poi a Rodi ed infine a Malta addirittura uno dei gran maestri dell'ordine di Malta era Jean de la Vallette che poi sappiamo ha dato anche il nome alla capitale dell'isola di Malta cosa significa tutto questo significa nella sostanza che l'ordine è riconosciuto dai governi e che il suo gran maestro ne è il sovrano possiamo dire quindi che pur non avendo un territorio perché l'ordine di Malta non ha un territorio a parte appunto il palazzo di via condotti il palazzo magistrale di via condotti a Roma e la villa magistrale sull'Aventino in piazza Cavalieri di Malta è assimilato diplomaticamente ad uno Stato con un proprio governo ha il proprio ministro degli esteri il ministro delle finanze e della cooperazione internazionale e ha poi il ministro della sanità se vogliamo assimilarlo così e quindi ha un proprio governo attualmente l'ordine di Malta è accreditato presso 104 governi al mondo ma oltre a questo accreditamento è anche accreditato presso le nazioni unite con un osservatore permanente sia presso la sede di New York che di Ginevra e di Vienna ed è presente anche in la maggioranza vorrei dire quasi tutte le organizzazioni internazionali ultimo in ordine temporale è stato accreditato anche presso l'Africa Union questo è recente perché il riconoscimento è venuto nel gennaio di quest'anno che è l'organizzazione degli stati africani e che ha sede ad Addis Abeba dico questo non per un'auto celebrazione dell'ordine di Malta anche perché la caratteristica dell'ordine è quella di avere un profilo basso ma proprio per far capire bene a cosa serve l'attività diplomatica l'attività diplomatica è uno strumento per il raggiungimento degli obiettivi dell'ordine che si fondano principalmente su due principi cardine ovvero tuizio fidei e l'obsequium pauperum quindi il servizio ai poveri quindi le relazioni diplomatiche dell'ordine consentono di avere dei rapporti privilegiati con il governo presso il quale è accreditato oltre come dicevo alle varie agenzie ONU e questo può dare la possibilità all'ordine di intervenire con rapidità ed efficacia nel caso di disastri naturali o nelle emergenze che sono causate da conflitti armati sul piano politico internazionale l'ordine di Malta ha una posizione di neutralità è imparziale e apolitico e questo pone l'ordine in un in uno stato di vantaggio perché può anche rendersi mediatore tutte le volte che gli stati si rivolgono ad esso per risolvere dei contrasti quindi questo è il senso vero dell'attività diplomatica dell'ordine ed è un'attività che pone al centro della sua azione l'uomo non avendo ovviamente interessi di stato da difendere quindi nella piena libertà per dare un flash veloce veloce sulle attività dell'ordine vi posso dire che l'attività umanitaria dell'ordine è realizzata nel mondo con corpi di volontari in 33 paesi 25.000 dipendenti fra medici paramedici assistenti sociali esperti di soccorso di emergenza 80.000 volontari permanenti 20 ospedali 110 casi di riposo 1500 ambulatori e posti di pronto soccorso e poi 55 accordi di cooperazione internazionale e 57 accordi postali con gli stati l'ordine di Malta è conosciuto fin dal medioevo come ospitalieri i membri e lo staff dell'ordine i volontari si prendono cura ogni anno di milioni di persone in 35 paesi del continente africano l'ordine cura direttamente ogni giorno migliaia di persone e questa è la risposta che l'ordine tenta cerca di dare alle enormi esigenze che quotidianamente si presentano tentando appunto di non lasciare solo l'uomo di fronte al suo destino non vi parlerò specificatamente dell'attività dell'ambasciata che rappresenta la Disa Beba ma vi dirò che siamo stati impegnati anche noi nella realizzazione di health centers e di scuole ritenendo che l'istruzione sia un passaggio obbligato per la promozione dell'uomo educazione scolastica educazione al lavoro ed educazione sanitaria questi i punti cardine e qui vorrei fare una piccola considerazione perché di progetti in Africa ce ne sono molti e tutti ritengo fondati su valide motivazioni di solidarietà in alcuni casi però essi possono essere frutto di emozioni che seppur assolutamente nobili non lasciano spazio a volte ad una progettualità razionale e di lungo respiro ove le stesse sostenibilità non sono accuratamente e preventivamente ponderate si impone quindi una considerazione che la valutazione del progetto deve basarsi su una visione di lungo raggio e come dicevo sulla sua sostenibilità nel tempo è opinione della nostra ambasciata che opera appunto dicevamo in Etiopia ed è accreditata anche presso l'Africa Union di privilegiare dei progetti che abbiano alla base queste caratteristiche ho avuto modo di parlare qualche anno fa con Monsignor Tomasi quando era ancora nunzio apostolico ad Addis Abeba e di apprezzare e condividere il progetto seppur molto impegnativo di realizzare l'Università Cattolica e Custa di Addis Abeba che rappresenterà un'eccellenza formativa non solo per i giovani etieti ma per tutto il corno d'Africa e senza voler esagerare sarà un riferimento anche per l'Africa sub-sahariana ecco il progetto Ecusta nasce proprio per aiutare quelle popolazioni a guardare con speranza al futuro e per consentire che tale speranza di rinascita il desiderio di recuperare la propria identità la voglia di costruire con le proprie mani e con la propria intelligenza non siano delle utopie ma delle prospettive concrete e a tal fine pensiamo che l'educazione sia lo strumento più efficace Io personalmente ritengo anche che sia un po' superata l'idea che in Africa ci si debba uniformare agli standard qualitativi locali se noi ci poniamo come interlocutori alla pari dobbiamo avere lo stesso metro di misura ovvero il nostro standard qualitativo deve essere anche il loro quindi il nostro concetto di eccellenza deve essere anche il loro si citava prima che un esempio concreto sono le 365 high school che sono gestite dalla piccolissima comunità cattolica in Addis Abeba quindi un insegnamento universitario non può prescindere da questo approccio culturale ecco quindi che l'università cattolica che si pone come obiettivo un'istruzione di eccellenza non solo per l'Etiopia ma per tutto il corno d'Africa non può che attrare l'attenzione della nostra ambasciata il progetto di costruzione dell'università cattolica di Etiopia non è dunque di mero tipo strutturale ma si propone la valorizzazione dei giovani che rappresentano il 50% della popolazione di circa 90-100 milioni di abitanti e quindi attraverso l'educazione nasce un progetto didattico integrato proprio in virtù del ruolo centrale dei giovani e dell'integrazione delle diverse confessioni cercando di costruire la futura classe dirigente di un paese che nella geopolitica africana rappresenta il fulcro della diplomazia africana del continente a titolo personale i miei collaboratori ed io convinti degli ideali dell'ordine rimasti vivi nei secoli e rinnovatisi attraverso l'impegno in campo sanitario in quello della protezione civile e in quello più in generale dell'aiuto umanitario crediamo in questo progetto e nel limite delle nostre possibilità lo sosteniamo anche con un impegno diretto nel fare rete ovvero coinvolgendo imprenditori ed operatori amici che possano aiutare finanziariamente o anche con prodotti di costruzioni o accessori per la sua stessa realizzazione bene io vi ringrazio per la pazienza e per l'attenzione e chiuderei con un augurio ed un auspicio un arrivederci ad Addis Abeba grazie arrivederci ad Addis Abeba per visitare l'università cattolica dell'Etiopia e questo è l'augurio con il quale ci lasciamo abbiamo parlato abbiamo fatto un viaggio tra questi due grandi patrimoni patrimonio storico religioso artistico così vivo e così vitale che ha generato una lunga storia di cristianesimo in Etiopia e il patrimonio educativo abbiamo sentito questi numeri effettivamente impressionanti perché è vero che la comunità cattolica in Etiopia è veramente piccola ma è capace di un dinamismo di una presenza di una vitalità che sono impressionanti bene ringrazio tutti i nostri ospiti e vi invito ancora una volta a visitare la mostra e a prestare attenzione a questo progetto dell'università cattolica grazie buona giornata grazie 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 grazie